Procedi a valutare il rischio legionella. Effettui la valutazione assistita del rischio. Di default hai una valutazione standard. Con un impianto sanitario, nessun fattore di rischio e una fascia di rischio bassa. Personalizzi la valutazione. Aggiungi gli impianti, indichi la tipologia, definisci i fattori di rischio. Aggiungi più impianti. Elimini quelli non necessari. Scegli la tipologia dell'impianto. I fattori di rischio variano in funzione della tipologia di impianto. Definisci i fattori di rischio per ciascun impianto. Ottieni una fascia di rischio per ciascun impianto. L'esito della valutazione sarà pari alla fascia di rischio più alta. Hai una checklist dove specificare eventuali misure migliorative attuate. Le misure definite non influenzeranno la valutazione. Confermi la valutazione, ottieni l'esito. Grazie!